SONO ANNI CHE VENGONO QUI A INTERROGARCI Ti va di andare al cinema? C'è ancora la possibilità di vedere papà Marilyn Monroe ha bisogno di quattro ore per truccarsi Io ci metto solo un quarto d'ora Cercalo qui, tuo padre Io sono una donna che ha fatto carriera Ma che ha perso la vita